ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è Rossella Pani io sono una maestra di riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce in questo video ti parlerò dei miei prossimi corsi online che si terranno su zoom dal vivo un percorso di nove settimane dove imparerai tutto sul riequilibrio energetico ma prima di spiegarti in cosa consiste il programma che voglio proporti vorrei parlarti un po delle nuove frequenze questa nuova energia comprende tutte le energie benefiche fino ad oggi conosciute ma si espande in un nuovo livello un livello molto più completo più comprensivo scienza chiama luce ed informazione questo nuovo livello vibratorio è in grado di portare trasformazioni straordinarie a livello fisico mentale emozionale spirituale la dove tu hai bisogno ok questo percorso di nove settimane è un percorso completo in quanto si partirà dal livello base fino ad arrivare ai massimi livelli quindi riuscirai a raggiungere il massimo potenziale di queste meravigliose frequenze quindi a differenza del reiki o di altre pratiche come il pranichilling o la pranoterapia non devi fare tanti corsi tanti step in nove settimane tu raggiungerai una formazione completa imparerai il riequilibrio energetico in presenza a distanza con la foto con lo sguardo il riequilibrio di liberazione il riequilibrio collettivo ok tutti gli aspetti del riequilibrio energetico verranno trattati argomento per argomento settimana per settimana quindi veramente un percorso straordinario che ti consentirà di raggiungere la maestria e l'indipendenza in questo in questo lavoro ok poi sarai tu a scegliere se fare questo percorso per la tua crescita personale per la tua evoluzione personale oppure se deciderai di intraprendere la strada dell'operatore olistico per aiutare le altre persone ok quindi non finisce qui vorrei precisare che vi sono anche dei bonus vi verrà dato tutto il materiale didattico tra cui preghiere meditazioni che sono fondamentali e determinanti per diciamo per cambiare la vostra energia per migliorare la vostra protezione il vostro livello di protezione di purificazione di di radicamento di centratura e di liberazione quindi sono delle preghiere che vi aiuteranno a prepararvi energeticamente per il percorso che andremo ad affrontare insieme ma anche per aiutarvi nella vita quotidiana di tutti i giorni in più a partire dalla quinta settimana vi verrà insegnata una modalità molto potente di riequilibrio energetico che viene chiamata logos healing logo ceiling ha il potere di trasformare la realtà in che modo cambiando il sistemi di credenza le paure limitanti e sabotanti i traumi del passato i blocchi tutto ciò che vi sta impedendo di essere in allineamento alla vostra anima di essere nel vostro pieno potere e di diciamo che vi sta impedendo di raggiungere i vostri sogni obiettivi personali e dell'anima quindi uno strumento potentissimo che potrete utilizzare per voi stessi ma anche per aiutare gli altri non solo se deciderai di partecipare a questo percorso di nove settimane riceverai anche quattro ebbene sì quattro sessioni di riequilibrio energetico a distanza che io stessa faciliterò su di te prima di iniziare questo percorso meraviglioso insieme quindi se vuoi ricevere maggiori informazioni sul corso di nove settimane non esitare a contattarmi le prossime date del corso saranno il 14 di dicembre 2023 volevo informarvi mancano pochi giorni e ci sono ancora quattro posti disponibili ok per l'anno nuovo la prima classe partirà lunedì 26 febbraio massimo 12 posti disponibili ok è come quasi a fare un coaching one to one io vi seguirò tantissimo potrete farmi tutte le domande che volete il 90 per cento di questo percorso è un percorso di pratica quindi lavorerete con le nuove frequenze di luce faciliterete il riequilibrio energetico sugli altri e gli altri faciliteranno il riequilibrio energetico su di voi sarà un continuo interscambio di luce e di amore per un 10 per cento ci saranno i cosiddetti insegnamenti dell'arcangelo michele da non sottovalutare in quanto sono determinanti per la tua crescita personale e spirituale e per accompagnarti in questo lavoro straordinario con le nuove frequenze di luce se vuoi ricevere maggiori informazioni qui sotto nel video ci sono clicca qui sotto ok oppure guarda la locandina qui sotto oppure contattami direttamente e potrai pormi tutte le domande che vuoi riguardo ai costi tempi e così via io vi saluto vi ringrazio e vi auguro una giornata meravigliosa a presto ciao ciao